che il pallone sia qualche metro dietro il tocco è di Bovo, il tiro di Totti rete! Francesco Totti ha portato in vantaggio la Roma 31esimo del primo tempo Totti sale a quota 12 in classifica marcatori 1-0, altro gol dedicato al piccolo Cristian e Totti festeggia il vantaggio della Roma un missile imprendibile per Amelia si interrompe dopo 390 minuti l'imbattibilità esterna del portiere del Livorno c'è stato un tocco, una deviazione lui calcia di collo esterno meravigliosamente bene qui è stato aiutato da un tocco in barriera di un giocatore del Livorno credo da Ferzel Amelia non poteva arrivarci però lui è dotato, l'ho detto prima di calciare sono stato un buon profeta per la Roma e sicuramente non buono per il Livorno eccolo qua il festeggiamento dedicato al piccolo Cristian per il gol numero 12 in campionato proprio sognando un giorno di poter giocare insieme a Totti adesso avversari parte Totti rete 2-0 e Totti ha fatto 13 ha fatto 13 Francesco Totti 13 gol in campionato 2-0 per la Roma al 41esimo del primo tempo su calcio di rigore che Amelia aveva intuito ma che non è riuscito ad allontanare dalla sua porta il 2-0 calciata benissimo il piatto piatto aperto sulla sinistra di Amelia guarda Angolatis l'ha ben intuito l'ha calciato molto bene forte di piatto basso è difficile per il portiere anche se lo intuisci parare questi rigori e Totti ha già realizzato due gol coronando fino a questo momento una prestazione superlativa nel giorno della sua partita numero 330 in serie attenzione liberato Taddei da Totti se ne va Taddei 3-0 Taddei ha realizzato la terza rete della Roma su invito al bacio di Francesco Totti Taddei è a quota 3 in campionato è grandissima disattenzione totale della difesa livornese che ha concesso una palla a Totti morbida è un giocatore così non puoi permettere simili opportunità assist al bacio per Taddei che si è trovato in diagonale col suo destro Amelia non poteva farci assolutamente niente rischiava il Livorno ci poteva stare e c'è stato per una Roma assolutamente devastante io oserei questo aggettivo per la Roma vedi errore grande assist di Totti ha fatto scorrere la palla in diagonale ha punito Amelia gran gol di Taddei non vi sarà sfuggito l'abbraccio che il brasiliano ha riservato a Bruno Conti a bordo campo 3 a 0 per la Roma eccolo qua riproposto in maniera puntuale dalla nostra regia l'abbraccio di Rodrigo Taddei a Bruno Conti l'abbraccio attra